Il sismografo registra le scosse avvertite nelle marche in giornata. Alle 14.35 una scossa di magnitudo 4.1 e profondità 24 km che segue un'altra scossa significativa, quella delle 9.25 con magnitudo 4.0. Speriamo che la storia si ripeta, dice la protezione civile, perché la zona interessata dal sisma, considerata a media pericolosità, non ha mai visto gravissimi terremoti. Quella zona ha una storicità dal punto di vista sismico e in passato le espressioni sismiche non hanno mai superato l'intensità che è stata registrata stamattina, quindi speriamo che la storia si confermi. Lo sciame sismico nella zona prosegue dall'8 gennaio scorso. La scossa più significativa è di domenica 10 gennaio, magnitudo 3.9. L'epicentro è localizzato tra quattro comuni a cavallo tra tre province, Loro Piceno, Sant'Angelo in Pontano, Falerone in Montappone. La protezione civile e i vigili del fuoco sono impegnati nelle verifiche, ma si escludono danni rilevanti e sono attive le sale operative. Noi abbiamo una rete di sorveglianza sismica molto efficiente, quindi tutto quello che accade viene immediatamente registrato. Tre sale operative provinciali, quella di Ascoli Piceno, quella di Fermo e quella di Macerata, sono attive. Speriamo che non serva nulla, però cerchiamo di mantenere in ogni caso l'attenzione a livelli elevati.